ciao ragazze ciao a tutte a tutti nuovo video che crescio come state spero bene allora oggi sono uscita per andare a votare come avete visto finalmente sono riuscita comunque niente questo è un video truccoso ma non mi trucco da forse vedere come sono truccata questi sono i miei occhi così e niente è usata la base questa qua insieme al correttore questo il correttore insieme a questa qui e poi per idratare la bra usato questo qua vedete che mi sto trovando stra bene questo burro a cao mi ha guarito anche dalle ferite il dentista poi come mattita nera mattita nera simatita per le sopracciglia utilizzato questa qui questo 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 gel fissante per sopracciglia della cos'è questo brand e finire specie appunto per definire le sopracciglia della douglas questo qua che non scuola stiamo facendo vedere però si luna ci siamo capiti per questo che c'è la mina retraibile vedete la mina retraibile no ok così bene e poi dalla parte l'opposta c'è l'opposta c'è il pettinino vedete eccolo qua si vede poi come luci da labbra barra brush anzi no prima brush come lascia utilizzato questo qua vedete ciao maxi blush fa un bel colorito infatti vedete che bel colore come ha fatto io l'ho messo poco lo sono un po sfumato se no c'è un caos ecco qua questo il blush già e mi sta a piacere molto bello molto pigmentato direi quindi ci restano anche molto attenti a quanto ne si applica poi come palette utilizzata scusate dopo la paletta non c'è a il mascara e ovviamente non mi trovo a vedere dove l'ho messo allora come vasca ha utilizzato questo qua della river questo però la ciccia questa a questo qua è la mia palette extra sopix extra spice di sopix sopix come se non lo so comunque poi alcuni di questi colori utilizzati vedete eccoli qua uno è aspettate quello figlio uno è questo qui sarebbe romance utilizzato poi utilizzato 21 assumare il tutto poi ho utilizzato dove sei mullet wine vedete che sono bellissimi con tutti quanti e romance che l'avete visto e poi cos'altro nella rima inferiore dell'occhio ho utilizzato reputati un questo qua sarebbe questo vedete già questo e niente poi come ultimo e ve lo ridico utilizzato non riuscire la prima prima il il mascara che è molto bello adoro allora ve lo faccio vedere la lo scuola da quest ops aiuto lo scuola da questo qua ok e della clissidra va più che bene fa tanto perché c'è da ricciugliozzi che la natura mi ha dato che sono fantastiche poi come luce labbra dove l'ho messo eccolo qua e questo qua della crayon rosa di il terreno labello di valentina si valentina ferragni vedete eccolo qua bellissimo ora me ne rimettono troppo anche se dopo me lo trovo perché vado a mangiare ecco qua ragazzi questo era il quanto niente quindi questo è il mio look di oggi la vostra è sempre la stessa quella che avete visto l'altra volta in watch my bag quella rosa cipria e poi come adesso non fateci caso c'ho l'abbigliamento da vedete l'abbigliamento da da casa perché tanto sono in casa ma è tutto il resto sono vestita scusate tutto il resto sono vestita già mi dicono che delle inquadrature pessime anche se ne frega la dai poi come maglia ho utilizzato una che ho comprovo stamattina cioè ve la faccio vedere un attimo solo aspettate un attimo ok ve lo prezzo le scarpe sono della nike quelle che ho utilizzato stamane per uscire a votare per andare a votare qui in sardegna si vota anche qui ma va e niente aspettate un attimo che mi riacconcio che questa è la maglia che ho utilizzato per andare a votare vedete è bellissima da ora mi piace un casino un sacco troppo bella vedete già niente mentre ho una piccola far vedere per andare al mare quest'anno ed è questo infatti c'è casa che è imbottita perché è imbottito lini di augusti di di carta vabbè questa è la la borsa che porterò per andare al mare quest'anno ci metterò di sicuro la protezione solare ovviamente queste sue danci vedete lanci dove le sue maniglie per andare al mare vedete le maniglie nel senso sì le maniglie della borsa ragazzi come devo dire e niente questo è di vichy vedete non si vede niente vichy ecco qua il marchio vichy e poi vabbè questa è la borsa non l'ho dato in farmacia dentro è imbottita di questa borsa vedete aspettate un attimo della nux vedete questo è nux poi dentro c'è un cappello sempre di vichy vedete che c'è vichy fuori sì e questo cappello bellissimo 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 vedete già ecco così colori sono più veritieri e niente così già mi piace vero bello questo cappello e niente quindi questo è il la borsa che mi è stata in farmacia grazie alle alle pappette che mi sono state comprate mia nonna per un tanto mi hanno omaggiato di questa bellissima borsa che adoro tantissimo vedete già non si vede niente così si vede no ecco qua questa è la borsa e niente con queste manici così da partire o così vedete o così oppure oppure niente così e basta già ecco ma se la posso portare così ma questo si semplicemente a che potete portarla così come volete voi ragazze vostra scelta se ha acquistato una borsa così o bella regala un addirittura un omaggio è bello io ho preso al signor nella presenza macchia fuori di un libro di all'illuminante non ho messo ci guardate un po si si vede si è impossibile che l'ho messo mi ero dimenticato di dirvi che non ho che ho utilizzato ho applicato anzi che non ho esser utilizzato ho applicato l'illuminante highlighter di make up revolution vedete non si vedrà mai ve lo faccio vedere così ecco highlighter di make up revolution bellissimo adoro mentre il fondotinta che applicate questo della essence stay matte all day 16 16 ore non importa long lasting questo qua della essence che è molto buona che c'è un casino niente allora ragazze mie e ragazzi miei siamo già arrivati a 9 minuti video non vi resta che non mi resta che salutarvi ci si vede a un prossimo video ovviamente stavolta con un bel make up ovvero stavolta ve lo rifaccio niente ciao a presto black e ha contato e iscrivetevi al canale youtube mio ciao